Noi avevamo detto, non è che tutte le trasmissioni serie hanno un meteorologo. Tutte le radioserie hanno un meteorologo, alcune hanno addirittura... C'è qualcuno che ce l'ha anche in casa. È vero. Poi ci sono anche quelli che hanno il meteorologo bagnino e noi vogliamo fare di più perché non sarà solo il nostro meteorologo della radio ma anche della tv. Inizia oggi quella che speriamo una collaborazione meravigliosa. Aspetta che ci conosca, dopo magari cambia di idea. Anche secondo me, però intanto noi ci proviamo, ancora non ci conosce bene. Facciamo le persone serie. Esatto, competenti perché abbiamo in studio con noi una persona che nella vita poi fa un mestiere che insomma gli dà anche... Certo che se tu perdi tutto il tempo nella presentazione... Eh no, però ci vuole una piccola presentazione. Comunque andiamo subito a farlo vedere Roberto Nanni. Buongiorno Roberto. Grazie a tutti ragazzi. Benvenuto. Benvenuto, è tutto il mio. Tra l'altro è un piacere essere qui ospite da voi. E essere ospite e far sentire la mia voce comunque a tutti i riminesi. Molti già ti conoscono. Molti ti conoscono e ti leggono. Ti leggono. Perché diciamo che Meteorobi, così si chiama anche un po' questa... La mia pagina Facebook. La tua pagina Facebook. Chiamo anche questo un po' progetto meteorologico che hai inventato e seguitissimo. Le persone prima di andare in spiaggia d'estate oppure di muoversi ci guardano. Perché ecco è vero che Roberto probabilmente qualche riminese lo conosce perché va in spiaggia da lui, insomma lo ricordiamo, lo bagnino di professione, ma in realtà molto di più perché tutto parte da una passione. Una passione per quello che ti capitava attorno. Roberto raccontaci un po'. Giustissimo. Sono state le vicissitudini diciamo che mi hanno portato ad approfondire questa passione e da innamorarmi diciamo. È nata come una passione e come necessità si è fatta una virtù nel senso che l'abbiamo portata avanti. È nata come una passione, ripeto, perché io sono un bagnino, sono un operatore turistico balneare come ne abbiamo tanti sulla Riviera Ormagnola. e ho iniziato tanto tempo fa e quando ero un ragazzino diciamo ho avuto delle brutte esperienze meteorologiche, tra virgolette, possiamo dire, esperienze negative che mi hanno fatto accendere la lampadina dicendo aspetta un attimo che vediamo se ci possiamo mettere una una soluzione se possiamo trovare una Ma tipo che cosa era successo in particolare? Raccontaci magari un episodio L'episodio che è scatenante diciamo Scotante diciamo più che altro Quando inizia un ragazzo che io avevo vent'anni diciamo eravamo inesperti Oddio, non può essere una battuta ma c'è ancora tuttora delle persone inesperte che fanno il nostro mestiere, purtroppo, dico purtroppo perché chi ha a che fare con con il meteorologia, chi ha a che fare con il tempo all'aria aperta quindi deve prendere poi le precauzioni giuste In questo caso qui ho preso una scottata diciamo c'è stato un fortunale che lo chiamiamo E' un fortunale attenzione perché ecco io adesso all'età di 45 anni penso di aver preso una una parte di bagaglio diciamo di competenza E logicamente anche le parole vanno sottolineate cioè va portato Va portato oltre avanti la questione tecnica anche l'espressione giusta che è cosa che purtroppo Non tutti utilizzano Non tutti utilizzano ma soprattutto i media cercano di andare Di enfatizzare Di enfatizzare, bravissimo Andrea E andare avanti con parole o espressioni troppo grosse o fuori da Quelle che richiamano un po' l'attenzione E' stato un fortunale diciamo né tromba d'aria né contatto Era stato un fortunale Un fortunale grosso che ci ha rovinato parte della spiaggia abbiamo avuto parecchi danni Tu dici se l'avessimo saputo magari Bravissimo se l'avessimo previsto E da lì è scattata la scintilla E da lì è scattata la scintilla Tra l'altro c'è anche da dire questo che chi è il turista che arriva in spiaggia e non chiede al bagnino Ma oggi che tempo fa quando magari sono tenuto Però la maggior parte dei bagnini dicono Bravissimo Ma quelle nuvole ma passano prenda pure ombrellone lettino Bravissimo Ma tu non fai così Esatto La mia purtroppo è ripeto Purtroppo se si può dire tra virgolette È una passione diventata anche quasi una professione Eh sì Diciamo che non sono un meteorologo fino Cioè riconosciuto Spero di prendere questo riconoscimento A breve Nell'acqua dell'inverno Però studi tanto Bravissima Purtroppo mi trovo a combattere tra Il mio essere bagnino Ed essere il meteorologo Durante l'estate quando ci siamo conosciuti con Roberto Lui puntualmente al fine settimana mi mandava un po' quello che lui appende Nel suo stabilimento balneare dove ci sono le nuvole, c'è il sole C'è insomma la tendenza Ed è molto oggettivo Anche quando tipo non so c'era la pioggia il giorno di domenica Lui la mette Non è che dice ma sì ma sono due gocce Imparziali Soprattutto imparziali Oggettività e imparzialità La sua passione che sta diventando anche una professione Tra l'altro una passione che è stata anche In qualche modo anche riconosciuta da grandi esperti di meteorologi Diciamo che ci sono delle collaborazioni Parliamo sempre a livello di social media Parliamo di facebook Parliamo di pagine come Metti Giuliacci del Colonnello Lo saluto Salutiamo Giuliacci anche noi Colonnello se vuole venire a trovarci Sia Mario che suo figlio Andrea La collaborazione tra l'altro importante Che nello scorso inverno mi ha visto crescere ulteriormente E ripeto Tra l'altro all'inizio di quest'estate abbiamo fatto installare Una stazione Scusate una stazione meteorologica sopra la cabina Una stazione in collaborazione con il centro Epson Meteo di Milano E la webcam che vedete sotto Se poi vi capita di andare a vedere E' quella di Giuliacci Di Metti Giuliacci Tutto lì siamo andati avanti con questa collaborazione D'estate purtroppo ancora Utilizzo questo termine L'ho dovuto sospendere Per motivi di tempo Ho riuscito a collaborare con Con l'associazione Marinari di salvataggio di Rimini Per quanto riguarda Le situazioni un po' critiche di tempo E di cambiamento Sempre utile insomma Per quanto riguarda E soprattutto per le coste parliamo E nel frattempo comunque ho delle collaborazioni strette anche con Quindi tu studi di notte i grafici Cioè quelle cose Sono a questo livello qua È una scienza molto precisa È una scienza curata E ripeto Studio su libri di testo di fisica dell'atmosfera Che già fa paura solo a dire Solo a dire dell'atmosfera Ma bravo Roberto Vedete Allora io Questo Ci piaceva fare anche questa premessa Sulla presenza di Roberto Io che la sera leggo un thriller Esatto Ecco Perché Ognuno ha le sue passioni diciamo Perché nel nostro desiderio È quello che Roberto ci accompagni Con l'esperienza di Meteorobi Non solo tutto l'anno Oggi abbiamo iniziato a presentarvelo un po' Però la gente dice Ma c'è Adesso vogliamo sapere Sti fine settimana Anche perché è un fine settimana importante Oggi la data dice 21 di settembre E fuori invece ancora Sembra Sembra Fino a estate Esatto E a questo punto Roberto Si accendono i riflettori su di te Perché è arrivato il momento del meteo Allora ti chiediamo In questo fine settimana Non abbiamo la cartina E infatti quello guarda Quella ci mancava Io ce n'ho una delle scuole medie Magari porto quella settimana prossima Mi alzo Io faccio La totem Faccio la totem con la cartina Noi però siccome siamo un po' campanilisti Ci interessano solo le previsioni Sulla zona riminese Cosa succede in giro per l'Italia Relativamente Visto che mi avete chiamato in causa Vi dico subito Le previsioni logicamente Iniziamo dalla premessa E non possiamo andarle Testualizzarle più avanti di tre giorni Perché la tendibilità poi Logicamente inizia ad abbassarsi Anche di parecchio Quindi diciamo A tutti coloro che a inizio giugno Guardano che cosa farà ad agosto Per decidere quali sono i giorni di vacanza Non funziona Non funzionano così Sono anche dei fan che ti salutano via Facebook Grazie Grazie a tutti ragazzi Grazie ricambio Gabriele dice grande Roberto Adesso poi Quando poi vedrai che condividi Diventerai il personaggio dell'anno A questo punto Sono ancora molto emozionate Sono sincero Dicevamo delle previsioni Adesso cerco di sintetizzare il tutto Avremo un fine di settimana Ancora tuttora All'insegna della media stabilità Oggi come potete vedere Anche è un venerdì stabile Ancora è una giornata Da passare all'aria aperta Quindi anche al mare Piuttosto che in montagna Nel pomeriggio Aumenteranno delle velature Ma qualche Nurosità sui rilievi interni Nel nostro circondario Ma nulla Nulla di particolare Nella giornata di sabato Ritroveremo la seconda parte Del pomeriggio Una nurosità in aumento Che potrà essere anche A tratti con gestizia Quindi Già dal sabato Diciamo dal sabato notte Alla prima parte della mattina Ci potranno essere Delle possibilità Diciamo possibilità Di piovaschi Generalizzati Cioè Locali piovaschi Nulla di che Insomma Nulla di Preoccupante Però questa nusità La riporteremo Fino alla domenica mattina Aumenterà la ventilazione Tra l'altro Tra il sabato Tardo pomeriggio Avremo una ventilazione Sempre dai quadranti Orientali E un mare Che andrà In aumento Un mare mosso Che andrà ad aumentare Che lo ritroveremo Poi il giorno successivo Quella della domenica Tra l'altro Alcuni amici velisti Mi hanno chiesto E adesso Colgo l'occasione Di portare adesso La giornata di domenica Mi hanno chiesto Come sarà il tempo Sarà da vela o meno La mattina di domenica A parte l'anusità Ci sarà un aumento Del moto ondoso Quello che poi Verrà riportato Dal precedente sabato Saremo intorno A un 80 cm di onda Così parliamo Di quel range lì Insomma Un mare che poi Andrà leggermente In diminuzione Nel corso della domenica La domenica Trascorrerà L'insegna Di inusità variabile Ma tutto sommato Asciutta Ci sarà un cambiamento Ragazzi Ve lo anticipo Ma penso che qualcuno Di voi lo sappia già Perché ci segue Ci ha letto Un cambiamento Che avverrà Nella Nella Settimana entrante Quindi Arriva l'autunno Tra l'altro L'autunno astronomico Mi ha anticipato Andrea Bravissimo Sarà quello di domenica 23 L'astronomico Perché quello Meteorologico È già iniziato Il primo di settembre Un autunno Non proprio Diciamo Un autunno In senso di temperatura L'autunno come Lo definiamo noi Poi Dell'ambito Meteorologico È un autunno Che deve essere piovoso In realtà Non sarà proprio Non ci saranno Queste precipitazioni Ma si abbasseranno Si abbasseranno Le temperature Ma un po' Forse anche di più Di un po' Ragazzi Ah vedete Vediamo già la tendenza Soprattutto tra martedì E mercoledì Abbiamo finito le magliette A maniche Bravissimo Ci dovremmo coprire Faccio la domanda Al competente Ma siamo nella media Del periodo Con queste temperature Così alte Di questi ultimi giorni Siamo fuori dai canoni Troppo caldo È un settembre Che tende a concludersi Come un settembre Tra i più caldi È un settembre anomalo Ricordiamo che Sono temperature Fuori media stagionali Tra l'altro Qui su Riminese Abbiamo due gradi Tre gradi Sopra media Ma oltretutto Non è tanto la temperatura Quanto l'umidità Che ci fa soffrire L'umidità del caldo Ma avete sentito Che mentre parla Di queste cose Di cui è molto compendente L'emozione se ne va Entra in un mondo In una Mondo tutto mio Ed è meraviglioso Ascoltarti Andrei avanti per ore Perché parlare di metodologia È una cosa che Noi ti aspettiamo venerdì prossimo Se ti sei trovato bene Se ti sei sentito a tuo agio Ecco ricordatevi Questa cosa Del cambiamento Perché logicamente Adesso abbiamo parlato Del fine settimana in sé Lunedì Avremo ancora Delle temperature Ancora Domenico avremo Un abbassamento Termico Di qualche grado Ci potremmo girare Intorno ai 24-25 gradi Di massimo L'unidì Si rialzeranno Nuovamente Queste temperature Per effetto Dei venti Di ponente Che avremo Nel corso Del pomeriggio Il martedì Entrerà Una ventilazione Del periodo Del periodo di settembre Ma di un ottobre avanzato Abbiamo saltato Qualche settimana Non importa Noi ringraziamo Roberto grazie Ricordiamo Meteorobi La sua pagina facebook Continuate a seguirlo lì Noi È un piacere Essere tra di voi Ma noi ti facciamo già Speriamo Parte della nostra squadra Di tempo reale Grazie mille Buon fin di settimana Quando mi chiamano direttore Ho già assunto Ok Vado via io No no Dai